andiamo a scoprire gli interni del nuovo euro cargo sono stati rivisitati soprattutto dal punto di vista tecnologico abbiamo infatti un nuovo cluster completamente digitale di ultima generazione è stato rivisitato anche il volante con tutte le funzioni necessarie qui a portata di mano compreso il pulsante start and stop che ovviamente si disinserisce nel momento in cui il veicolo è in marcia nella plancia è stato integrato questo schermo touch dal quale è possibile regolare e settare tutte le funzioni del nostro euro cargo ma la maggior parte delle novità riguardano i sistemi di ausilio alla guida rispondenti le direttive gsr come angolo cieco e come ostacoli che l'autista generalmente non riesce a vedere mentre guida questi sistemi danno un warning un allarme sia visivo sul cluster che sonoro che avvisa l'autista in condizioni di pericolo